Elena Prestes è finita al centro delle polemiche per un comportamento che richiama un precedente legato a Giulia Salemi durante il Grande Fratello VIP 5. La modella brasiliana, già capace di spaccare l'opinione pubblica all'interno e fuori dalla casa, ha suscitato un acceso dibattito sui social. Un gesto compiuto nelle scorse ore ha portato molti fan a chiedere un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Tutto è avvenuto durante l'ultima puntata del Grande Fratello 2024, quando Elena ha ricevuto una sorpresa dall'amica Daiane Mello, storica protagonista del GF VIP 5. Mentre gli altri concorrenti si sono separati dai propri cari dopo un breve incontro, Elena ha potuto trascorrere più tempo con Daiane, lontano dagli occhi degli altri inquilini. Un privilegio che ha fatto discutere, soprattutto per ciò che è avvenuto durante la loro conversazione. Rimaste sole, le due hanno parlato in portoghese, violando la regola che impone di usare solo l'italiano e di evitare riferimenti al mondo esterno. Tra le frasi pronunciate da Daiane, vai per la tua strada, non devi avere l'approvazione di nessuno. Un comportamento che ha ricordato l'infrazione compiuta anni fa da Fariba Terani, madre di Giulia Salemi, che costò alla figlia una penalizzazione. Daiane, nel suo intervento, ha espresso parole cariche di affetto. Sei cresciuta tantissimo. Ti ricordi tutto quello che abbiamo passato insieme? Sei la sorella che Dio mi ha dato. Sii forte e non mollare. Tuttavia, è proprio la violazione del regolamento a sollevare il dubbio. Elena subirà la stessa sorte toccata a Giulia Salemi? Il web è in fermento. E l'attenzione ora è tutta sulle decisioni del reality.